Per noi, per tutto il gruppo DAO, l'innovazione soprattutto in questo periodo è il mantra quotidiano. Innovazione perché apparteniamo a un settore tradizionale che troppo a lungo è stato fermo. Cerchiamo di farlo andando a trovare delle nuove modalità per portare avanti il lavoro che facciamo da sempre, cioè il dialogo con la clientela però con un linguaggio completamente diverso, con un'offerta completamente diversa per dare quello che abbiamo sempre fatto, un servizio quotidiano. Quindi innovare significa per noi trovare una modalità differente per presentare quello che abbiamo sempre fatto. Lo studio sul campo è fondamentale, soprattutto andando a vedere delle realtà anche distanti da noi, perché avendo la fortuna di vivere un'azienda di successo altrimenti ci si focalizza troppo su quello che si è sempre fatto e quindi il primo elemento è proprio quello di raccogliere degli spunti nuovi. Andare sul campo è anche altrettanto significativo perché diversamente la passione a volte ti porta a seguire delle vie che magari potrebbero essere poco concrete e invece il confrontarsi con delle realtà concrete, realmente operative, ti permette di vivere un'esperienza reale. Con Retail Hub l'esperienza ormai è di lungo periodo, si cammina assieme. Leadership Retail, e poi ho il piacere di partecipare nuovamente, fa parte del percorso che noi viviamo nell'andare a cogliere le esperienze di altri, di altri nel nostro settore o di settori similari nel retail, sempre nell'obiettivo e nello stimolo di crescere e di cogliere nuovi spunti per permetterci di continuare a fare il nostro mestiere ma con delle chiavi di lettura diverse.